video di verto dj full, un po' di canzoni, un po' di sound, un mixaggio, un coso insomma, una suonata ovviamente c'ho la tv che me la sono messa qua al computer questo poi sono tutte le canzoni che posso scaricare in internet ecco sono su internet, me li posso scaricare tipo questa, mi piace, scarica, mi scarico tutto da qui questo è il programmone, questa è la mia console è tutto online, chiaramente la musica momentaneamente è un po' di sonno andiamo a vedere grazie grazie chi iscriviti al canale ovviamente là il sesso io sto lavorando qui quindi vedete tutte le cose non si possono vedere tanto però vediamo se mi metto così dai me la metto in testa che si riprenda un po' di figheria io volevo vedere questo è carino ma io ne avevo uno che spaccava il cazzo che era Daniel Mondello allora ho scottrati tutti queste qua questa non me la dà sì dai yes it's time for the Hardstyle Classic but back to the Hardstyle Classic Italian DJ John Mondello started as a battle hip hop DJ and in 1993 he became fourth on the DMC world championships he got into the Hardstyle Classic he snapped in the box and showed him you excited for the rest stay quick you see the mindset of the Game ёр the Dead that's fine most I can see around you it's padre e the mystery you i i i ok i it's I said and my yn Comanda. 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 20 augusti, 20 augusti 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 20 augusti